Dirti che mi manchi. Dopo l'anteprima internazionale alla mostra d'arte cinematografica di Venezia, il lungometraggio L'invenzione della neve per la regia di Vittorio Moroni arriva nelle sale italiane. Tra documentario, animazione, realtà e favola, il regista avvolge lo sguardo verso l'universo femminile per costruire un film che insieme noir e thriller dell'anima. La storia di Carmen è un viaggio alla ricerca della felicità in un mondo crudele dove non c'è spazio per l'immaginazione. Protagonista maschile è l'attore torinese Alessandro Averone. L'invenzione della neve è stata un'esperienza veramente molto particolare perché la struttura del film è strutturata in sei scene solo e siamo in sei attori. Le scene sono state pensate per avere una struttura abbastanza teatrale, cioè sono scene di 20-25 minuti l'una e sono state girate in vari pieni sequenza. Quindi vuol dire che noi per tutto il tempo della scena la macchina da presa non stoppava, quindi tutto quello che succedeva faceva parte della scena compresi anche dei margini di improvvisazione molto alti. Questo ha fatto sì che si creasse un materiale inaspettato. Ovviamente è un lavoro che si può fare solo se c'è un grandissimo ascolto, una grandissima disponibilità e attenzione da parte di non solo degli attori ma anche di tutta la troupe. La natura del regista Vittorio Moroni, che è anche una natura molto documentaristica, l'ha portata anche all'interno del film e di come sono state girate le scene, perché noi avevamo la sensazione quasi di essere un po' spiati. Quindi sei all'interno totalmente calato in una situazione della scena che stai recitando e c'è una macchina da presa che sta venendo a scoprire e pian piano che cosa succede, ma in realtà in certi momenti hai quasi l'impressione di non essere ripreso. Alessandro Averone per tutta l'estate ha vissuto il territorio siciliano perché ha interpretato Giasone in Medea all'interno della 58esima edizione delle rappresentazioni classiche di Siracusa. Sempre con Medea debutterà stasera all'interno del programma del Teatro Romano di Verona. Sono stato in Sicilia tantissime volte per lavoro, in tournée e anche in vacanza. Cioè è una terra magnifica con un'energia incredibile e appunto quest'anno a Siracusa era la prima volta per me, è stato veramente unico e speciale perché il Teatro Greco è un luogo incredibile, cioè con un'energia unica e un rapporto con il pubblico veramente particolare.